Musica Ciao a tutti ragazzoli, sono Anthony Milione e oggi sono qui su Black Ops 2 nella modalità zombie sulla mappa Baried del DLC Vengeance e sono qui in questo video tutorial per farvi vedere come ottenere il perk permanente PhD Flopper infatti in questa mappa, cioè infatti il perk sarà un perk permanente ma non sarà una bibita per ottenerlo, ottenerlo è molto semplice e avviso che io qui il perk già ce l'avevo però si fa così dovete regarvi su una parte piuttosto alta della mappa, io sono su queste scale per esempio e dovete saltare molte volte su e giù procurandovi un danno discreto un danno discreto e fatelo all'incirca 5-6 volte e una volta che vi sono uscite delle scintille verdi avrete ottenuto il perk e questo perk consiste nel, quando vi buttate col tuffo del delfino di fare una, diciamo, uno scoppio e questo scoppio vi potrà servire per quando si accumulano molti zombie per rivelarvi la zona intorno a voi adesso vi faccio rivedere però lo scoppio avverrà ad una, se vi buttate col tuffo del delfino da una parte alta non è che se state correndo su una parte piana e vi buttate col delfino esce lo scoppio esce soltanto se vi buttate da una parte alta, come sto facendo io su queste scale quindi spero che questo video tutorial vi sia stato d'aiuto se avete bisogno di ulteriori aiuti o informazioni lasciate un commento vedete io qui uccido i zombie con il tuffo quindi lasciate un commento se avete bisogno di aiuto vedete qui non l'ha fatto perché era su una parte piana già adesso l'ha fatto quindi se avete bisogno di aiuto lasciate un commento anche scrivendo che cosa ne pensate e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale ciao da entro in milione e al prossimo video grazie